Ad aprile in Italia si contano 274.000 occupati in meno rispetto a marzo. L'effetto dell'emergenza Covid sul mercato del lavoro, spiega l'Istat, appare decisamente più marcato rispetto appunto al mese precedente. L'occupazione ha registrato una diminuzione di quasi 300.000 unità che ha portato nei due mesi ad un calo complessivo di 400.000 occupati e di un punto percentuale nel tasso di occupazione, dice il commento che accompagna le stime. L'effetto del lockdown pesa anche sul calo del tasso di disoccupazione ai minimi da novembre 2007. Sempre ad aprile si registra una nuova impennata di persone inattive, cioè coloro che non hanno e cercano un lavoro, che salgono di 746.000 unità. Intanto domani incroceranno le braccia, anche se virtualmente, gli appartenenti a 22 ordini di professionisti, tra cui commercialisti, ingegneri e infermieri, che raccolgono circa un milione e mezzo di lavoratori. Tra i motivi dello sciopero virtuale, in particolare il fatto di non aver ricevuto, come altre categorie, i contributi a fondo perduto. Per i promotori dello sciopero, anche gli studi professionali, che danno lavoro a circa 900.000 persone, vanno riconosciuti come imprese. Per domani l'appuntamento è sulle piazze telematiche dei social network, anche per discutere e presentare il manifesto delle professioni per la ripartenza.